Non c'è Nicola questa mattina, che è uno dei pochi che condividono con me la grande passione per il principino di Minneapolis e allora abbiamo chiamato il personaggio più imitato da Nicola, cioè The Real One Massimo Aldani, buongiorno! E quindi vibro anche io nella zona Vibro un pochino con noi Adesso cercherò di imitare Nicola Savino Che imita te, è come quando viene Renato Zero che fa il cortocircuito Esatto, meta imitazione È completo, ieri ho incontrato Massimo al ristorante, gli ho detto Massimo domani mattina ti va di venire a raccontare qualcosa su Prince? Perché insomma avrebbe compiuto 60 anni, poi il suo ricordo è ancora molto vivo E peraltro è un personaggio che alle generazioni più recenti fatica a piacere Anche mio figlio che è molto aperto dal punto di vista musicale Ha una cultura ormai che spazia dall'elettronica a Bob Dylan Solo su Prince non riusciamo ancora a incrociarci Raccontiamolo un po' meglio Massimo è arrivato, carico di aneddoti Ma anche cartacei Ma anche tessili Magari se abbiamo tempo guardiamo anche Per esempio questa maglietta che per radio non si vede Ma ve la posso raccontare Una orrenda maglietta camouflage Colore nero e pesca Che maglietta è questa? Allora io l'ho trovata nella mia cameretta in fondo all'armadio La cameretta di Aldani I miei hanno messo quell'adesivo, quello della polizia Do not cross the line Da quando sono andato via nell'86 Però è un volt per usare il termine di Prince Cioè la cassaforte di tutto quello che c'è all'interno della vita di Prince Dal punto di vista produttivo E la mia cameretta conserva la mia vita fino ai 26-27 anni Questa è la maglietta che indossavano i bodyguard durante il tour Sign of the Times La sicurezza Sign of the Times Dal 7 giugno fino all'11 giugno Day off il 10 perché c'era Peter Gabriel E io le ho visti tutte e quattro Chi andò a vedere il concerto era obbligato a vestirsi O color pesca diceva lui Che è un colore poi dipende da quale pesca Se prendi le pesche quelle bianche dentro sono quasi verdine Se prendi le altre sono più sull'arancione Oppure di nero che era più facile da individuare Tu per quale colore hai optato? Allora io avevo una lacosta salmone E' accaduto in prescrizione Erano gli anni della Milano da bere Per cui era anche consentito utilizzare il salmone solo in quell'occasione lì Poi c'era anche il purple Ma che avrebbe avuto successo poi in maniera diversa dal punto di vista della moda Prince mi ha accompagnato dall'inizio Ed è forse l'artista che io ho scelto Nel senso che ascoltando la Rai Avevamo diciamo il mercato inglese sostanzialmente Prince non era del circuito mainstream Per cui l'ho un po' scelto alla fine E' un po' quello della mia adolescenza E' quello che ha interpretato la rabbia della mia adolescenza Ma anche i tormenti adolescenziali Legati allo romanticismo, alla sessualità, all'erotismo Eccetera eccetera Per cui l'ho amato... Beh c'era molto erotismo nelle canzoni di Prince Moltissimo Nonostante lui fosse... Forse è il cantante più sensuale che sia mai esistito In assoluto In guardabile ma sensuale In assoluto In assoluto E sapeva cantare anche il romanticismo come nessun altro Quello che non capisco delle nuove generazioni che non si sono avvicinate a Prince È strano perché lui è stato un innovatore Cioè scriveva, produceva, arrangiava, cantava e suonava tutte le sue canzoni Lui è riuscito a sovrapporre nella mia testa Marvin Gaye e Jimi Hendrix Sì, la creatività di entrambi e lo spirito erotico di entrambi Nel senso che sono stati due sex symbol della musica nera con motivazioni diverse Però è stato l'innovatore anche dal punto di vista del web È stato il primo a vendere i dischi nel 1996 Non ha mai avuto un sito internet ufficiale Ma ogni disco aveva il suo sito e poi lo chiudeva E quindi è stato il primo Quanti nomi ha cambiato? Cioè a parte il nome Prince Christopher Tracy Kid in Purple Rain Camille che era l'androgino appunto di If I Was A Your Friend Love Symbol Ad esempio ha obbligato i media a utilizzare un alfanumerico che prima non esisteva E nelle tastiere il love symbol Cioè il simbolo femminile, il simbolo maschile non esisteva Su Billboard non c'era scritto Prince ma c'era quel simbolo Per cui ha obbligato Billboard e tutte le altre riviste Cioè a me piaceva molto Tough Cup Tough Cup di artist formerly known as Prince L'artista precedentemente conosciuto come Prince Per spiegare chi era realmente Arrivano molti messaggi ovviamente Per esempio questa è la domanda classica La rivalità fra Prince e Michael Jackson Era vera o era una stronzata? Era assolutamente vera Nel senso che poi i media l'hanno cavalcata 1985 We Are The World Ok? A registrazione alla fine degli American Music Awards Cioè a fine di gennaio Sono tutti lì? Gli artisti? Siamo uno che l'altro Ok andiamo in studio Ok Prince non ci va Perché la canzone non l'ha scritta lui L'ha scritta Lionel Rich L'ha scritta Michael Jackson L'ha prodotta Quincy Jones E lui non può fare quello che fa Michael Jackson Cioè a registrare al di fuori della coralità Come oggi Cioè io sto in un altro studio Come ha fatto Michael Jackson E Prince non vuole aderire a questo progetto Perché non è suo Allora alla fine di quella serata Va in un locale a festeggiare con tutti i suoi musicisti Le statuette vinte Cioè le piramidi di American Music Awards I giornalisti secondo te dove vanno? Vanno alla registrazione di We are the world USA for Africa O vanno nel locale Lo aspettano al locale E da quel momento lì Lui non rilascerà più interviste Ti ricordi che quando venne qua in Italia Alla fine degli anni Ottanta Si diceva Oggi al giardiniere Ha detto buongiorno E quella era la notizia Al giardiniere della villa di Versace Sul lago di Como Che si è benchiaggio Alla giardiniere Quella era la notizia Perché non c'era notizia Lui non rilasciava interviste Perché aveva fatto guerra Aveva anticipato la guerra Disco grafica E naturalmente ai giornalisti E lì nasce La dicotomia Cioè il dualismo Quincy John ci mette una pezza E dice ok va bene Non hai partecipato alla coralità Però se vuoi inserisci un brano All'interno dell'album Four Tears in Your Years Che è un inedito Per cui Prince Ha tutti gli effetti Però in tutto questo Michael Jackson Uno dei tre figli L'ha chiamato Prince Io non so se sia per quel motivo lì O se sia per ambizioni Per ambizioni regali Però è curiosa anche la coincidenza Senti fra le tante cose che hai portato Ce n'è una che fa molto ridere Che è veramente un cimelio È la lista delle vettovaglie Che dovevano rifornire i camerini di Prince In occasione appunto del concerto milanese Chiaramente sono tre liste molto separate Una è per la band Una è per Sheila La sua batterista insomma Le percussioni E l'altra è quella sua Fra le mille cose che chiede Prince Ci sono due sacchetti grossi Di Nachos Doritos Che non so a Milano dove le abbiano trovate Le avranno fatte arrivare dall'America E due sacchetti grossi di Old Smentoliptus Nel caso gli fosse venuta la tosse Beh anche Nyquil Che invece è un antifiammatorio Diciamo il Vicks Vaporus Sostanzialmente Lui voleva che ci fosse Anche l'argenteria Pare brutto che non ci sia l'argenteria Pare brutto Ha avuto molte donne Prince nella sua vita Beh questa è una domanda La quale non troveremo mai una risposta Diciamo così a spalle Non troveremo mai una risposta Molte Molte Però diciamo Anche sulla bisessualità Onestamente Mi sentirei di sospendere Il giudizio Sì perché Secondo me era assolutamente Un eterosessuale Però ha giocato molto Sull'androgenia E sulla bisessualità Sulla ambiguità Era Massimo Aldagni ragazzi Quello vero A Radio DJ L'appuntamento è questa sera Alle 20 su Radio Capital Con The Vibe Giusto? No questa sera c'è il concerto Di Pino Daniele Ma vabbè Prostiti Stai ancora con me Grazie a tutti Grazie a tutti